buongiorno a tutti e benvenuti quest'oggi però una mini lezione sulla leva sulle performance nel trading e con l'utilizzo dei derivati in particolar modo vedremo l'esempio dei future perché questa mini lezione perché mi capita spesso di ricevere delle domande anche da persone che fanno già trading che quindi non sono completamente neopiti ma che magari vogliono delle informazioni sui trading system chiedono quanto si guadagna con il trading quanto si guadagna con il trading system sui derivati e la mia risposta a queste cose è sempre dipende perché non è non funziona il trading in derivati come il trading su azioni o su etf o su bond o criptovalute qualunque altro sottostante dove non si utilizza della leva perché il prezzo di la performance è calcolata come differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita in forma percentuale le cose sui derivati sono un po diversi dipende dal contratto che voi utilizzate da quanti contratti fate e da che quanta leva utilizzate rispetto al capitale quindi cerchiamo di fare alcuni esempi partendo utilizzando il fuzzimib fuzzimib noi abbiamo tre tipologie di contratti future abbiamo il contratto fuzzimib grande abbiamo il contratto mini e abbiamo il contratto micro quindi tre alternative il prezzo qui scambiano è sempre lo stesso perché il sottostante l'indice fuzzimib quindi 27.110 punti ad esempio prezzo di questa mattina per entrambi per tutti e tre i contratti cambiano le caratteristiche invece del contratto perché il valore del fuzzimib contratto grande da cos'è dato è dato dal prezzo cui scambia il contratto per il valore del punto quello che viene chiamato il big point value quello che nelle piattaforme tipo la 3 station la multi charts quando andate a settare il simbolo dovete settare proprio il valore del big point value quindi il valore del contratto quindi 27.110 il prezzo per 5 euro appunto significa che se io compro un fuzzimib io sto inserendo in portafoglio un contratto che ha valore di 135.550 euro se invece vado a comprare un contratto mini il prezzo è sempre lo stesso del contratto grande ma il valore del contratto è dato da il prezzo cui scambia sul mercato per il big point che è un euro un euro appunto quindi 27.110 punti valore del contratto 27.110 euro se vado a comprare un contratto micro invece pure 27.110 è il prezzo ma vale un quinto rispetto al contratto mini e quindi il valore del contratto io sto negoziando un contratto che ha un valore di 5.400 42 euro diverso è il concetto di margine quindi se il valore del contratto del fuzzimib è 135.550 euro quando scambia 27.110 il margine cui io materialmente il mio esborso monetario sul conto non è 135.550 quindi io quando vado a comprare non mi trovo nella liquidità 135.550 euro in meno nella liquidità me ne trovo invece vado a utilizzare un margine di 14.910 euro il valore del margine del contratto mini è l'11% quindi 2.982 euro per il contratto micro 599 euro che cosa succede nel caso in cui io mi esponga io vado incontro a un guadagno o una perdita potenziale del 10% se io perdo il 10% con un contratto fuzzimib oppure il mini oppure il micro io non perdo il 10% calcolato sui margini ma perdo il 10% di quello che è stato il depreciamento o l'apprezzamento del contratto quindi io perdo il 10% di 135.550 euro se trado il contratto fuzzimib grande il 10% di 27.110 se trado il mini il 10% di 5.442 euro se trado il micro quindi la perdita o guadagno potenziale in euro a questa calcolando un 10% può essere di 13.555 euro 2711 euro nel secondo caso contratto mini 544 euro per il contratto micro ora questo come incide sul mio capitale di partenza ipotizziamo di avere un capitale di partenza di 5.000 euro ok se io ho 5.000 euro di capitale quindi il mio conto liquidità 5.000 a inizio mattina potrò comprare un contratto fuzzimib no non lo posso comprare perché mi vengono richiesti margini per 14.910 euro quindi è un contratto che non è alla mia portata non lo posso comprare perché mi viene chiesto questo a montare per poter movimentare un contratto se dispongo invece di 20.000 euro posso comprare un contratto fuzzimib sì perché il mio esborso sarà 14.910 con i quali o muoverò un valore di 135.550 euro ma cosa succede in caso di perdita in caso di perdita di questo 10 per cento perdo 13.550 euro perderei e quindi sui miei 20 mila euro di liquidità che ho a inizio mattina vado a perdere il 67,70 per cento del mio valore e questo della mia liquidità da cui sono partito e questo mi renderà poi impossibile proseguire la mia attività di trading andrò in margin call e non sarò in grado di poter proseguire la mia attività di trading perché non avrò più i soldi per comprare nemmeno un contratto poi al cosa succede se invece ho 50 mila euro di capitale ne perdo oppure ne posso guadagnare un 10 per cento un'ipotesi che abbiamo fatto il 10 per 113 mila 555 e quindi il 27,11 per cento quindi quanto si guadagna o quanto si perde nel trading dipende dipende da quale contratto fate dipende da quanti liquidità avete sul conto da quanti contratti fate e quindi le percentuali sono molto variabili in base ai rischi che vi andate a prendere con la leva nel caso del contratto mini invece se io avessi 5 mila euro sul conto posso comprare un contratto mini sì perché un i margini sono 9 mila 2982 euro riesco a comprarne uno nel caso in cui perdesse il 10 per cento vado incontro a una perita del 54,22 per cento se disponessi di 20 mila euro posso comprare contratto mini certamente o ancora meglio ne posso ne potrei comprare anche almeno 5 5 5 contratti anche 6 contratti potrei comprare con 20 mila euro se andassi incontro a una perdita o un guadagno del 10 per cento perderei però 2711 euro e quindi rischierei su 20 mila euro di andare sotto oppure in guadagno del 13,55 per cento poi nel caso in cui avesse a disposizione 50 mila euro la mia variazione percentuale sarebbe del 5,42 per cento ecco è stata una lezione molto sintetica quella di questa mattina però credo e mi auguro che possa essere chiarificatrice per tutte quelle persone che continuano a chiedere quanto si guadagna col trading quanto si guadagna con un trading system dipende da quale contratto fate e da qual è il vostro capitale di partenza e quanti contratti andate a fare per ciascuna singola tipologia direi che quindi per questo per quest'oggi ci siamo detti tutto dovessero esserci domande cose che non sono chiare potete comunque scrivermi info chiocciola ericomalverti.com domani mattina riprenderemo invece le nostre consuete dirette facendo analisi andando a vedere cosa succede sui mercati guardando i flussi eccetera eccetera vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e un buon trading